Piantala, piantala, tirare calci, piantala! Dolores! 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 Ehi, Eddie, sei finito in prima pagina? Sì, ho fatto versare un po' di chiostro. E che chiostro? E però, Eddie, lascia perdere. Oddio, no, 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 no! Di un po', Eddie. Hai un coniglio in tasca o sei contento di vedermi? Piantala con le battute, Dolores. Ho avuto una giornata dura.